A margine del Computex, mega evento tecnologico che si svolge a Taipei, Taiwan, abbiamo avuto la possibilità di visitare i laboratori di Asus, una delle aziende tecnologiche taiwanesi più note dove qui vengono ideati e testate le prime versioni dei loro dispositivi. In questo momento stanno realizzando un prototipo qua. I computer che vengono immessi sul mercato, oltre ad avere un tocco di design italiano dato dai nostri talenti che lavorano qui, vengono poi prototipati in questi laboratori dove la percezione che abbiamo è che si prova a meccanizzare l'arte del tornio per creare le componenti dei computer, ma preservando quell'artigianalità nel combinare insieme effetti e materiali, prestando attenzione all'estetica ma anche all'impatto che questi dispositivi avranno sull'ambiente. Anche la ricerca dei materiali, cerchiamo di minimizzare l'utilizzo di plastiche, anche se sono riciclate, ma di introdurre anche nuovi elementi come ad esempio il legno, il bambù, insomma di integrare soluzioni stilistiche anche materiali che possano esprimere al meglio questa nostra visione.